La città celebra il 150esimo anniversario della fondazione dell'arsenale militare, un appuntamento ricordato con mostre, annulli filatellici e l'inaugurazione di un monumento in piazza Patroni che vuole testimoniare il rapporto stretto tra la città e la marina militare. La festa per i 150 anni dello stabilimento militare è anche l'occasione però per fare il punto sullo stato di crisi dell'arsenale. Per decenni è stata la principale fonte di sostentamento per migliaia di famiglie. Negli anni 80 i dipendenti civili erano più di 3.000 e i militari in forza alla base Spezzina erano più del doppio. Oggi i dipendenti civili sono soltanto 600 ed è proprio per sottolineare questo dato che i sindacati hanno voluto celebrare la ricorrenza con una protesta simbolica ma molto significativa, la deposizione di una corona a lutto davanti al monumento di Domenico Chiodo, il fondatore dell'arsenale. Senza assunzioni, hanno ricordato i sindacati, l'arsenale è destinato a morire. In questi anni di promesse ne sono state fatte tante, ma solo promesse. Certo è che la situazione denunciata dai sindacati è allarmante e giustamente ora ci si pone il problema di un diverso utilizzo delle aree militari. Lo stesso capo di Stato Maggiore nel suo intervento alla festa di compleanno ha aperto ai privati, ma questa apertura potrà avvenire soltanto se si realizzerà un piano strategico che tenga conto delle necessità della Marina e delle aspirazioni del mondo imprenditoriale locale. Questo problema è stato più volte proposto negli anni, ma mai si è redatto un progetto concreto di interventi da attuare per consentire al mondo economico di beneficiare delle aree inutilizzate e dei servizi che potrebbero diventare comuni sia per la Marina che per i privati. Senza questo piano si andrebbe incontro a richieste che porterebbero solo a spezzettare singole aree a scapito delle aspirazioni di una città che vuole riappropriarsi di un territorio che ha ceduto alla Marina beneficiando di quel ritorno economico che oggi però si è ridotto notevolmente.